Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma rallentamenti per un mezzo pesante in fiamme adesso estinto al km 403 e 900 tra Valdichiana e Chiusi. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata verso Genova, in uscita provenendo da Genova. A Pistoia per il danneggiamento di un ponte è chiuso al transito il tratto della tangenziale tra Pistoia Ovest e Ponte Europa in direzione nord verso la montagna e verso Pistoia. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!